Ben trovati la TG della mobilità a cantieri in città in via dei fori imperiali, proseguono i lavori di scavo all'altezza di piazza del Colosseo, interventi in corso da diversi giorni, i lavori comportano il senso unico da via Labicana a via dei fori imperiali, deviate le linee 75, 81, 85, 87, 117, 118 e di notte cambia percorso la NMB. Intanto sulla Cassia Bis, riduzione di carreggiata per lavori sulle rampa all'altezza del raccordo anulare, sempre nella zona nord a via Monterosi, da oggi senso unico alternato tra via Flaminia e via Valdagno, per quattro giorni di cantiere, per due notti, dalle 20.30 sarà chiusa via della stazione Tiburtina per lavori in via della Lega Lombarda e saranno deviate sei linee di bus. Infine, da domani al 28 aprile, circolazione a senso unico su via Salaria da via Tirso a Viale Regina Margherita e tutto dal Tg della Mobilità.